Diamo quindi avvio alla firma del trattato dando la parola al presidente dell'associazione francese Jean-Louis Lascoux. Voi avete il, parlerà in lingua francese, ma voi avete il testo del dottor Lascoux in lingua italiana tradotto. Professor Lascoux, prego. Signore, signore, amici e professionisti della mediazione, buongiorno, ma c'è tutto quello che sa dire in italiano. Signore, signore, amici e professionisti della mediazione, quindi, buongiorno. Votre paio ha chiesto una voia verso più di libertà e voi voi domenere tutti, in questo forum straordinario, in Italia, per che questa opportunità non sia mai abbandonata al profit di una regression sociale. Io n'hésite pas a le dire, abbandonare l'idea di una mediazione prealabile a l'action judiciaire è regressiva. Tandis che la mediazione parla del futuro, il sistema judicia, indispensabile, in bien dei casi, per accompagnare la regolazione dei comportamenti umani, il sistema judicia parla del futuro. Tandis che la mediazione ovre, su il libre choix, il sistema judiciaire è privato di la libre decisione. Abbandonare questa opportunità, di una mediazione prima il procese, se ferà quindi a profit di un choix di decadence culturelle. Le mots semblent fort. Ma tutti questi che non pensano in termini di interi corporativi, ma pensano in termini di interi per le persone e le organizzazioni, non possono che constatele loro justezze. La mediazione presenta da moltiplici avanti, ma questi avanti maggiore non possono essere maschi. c'è per salire questa avancata che io sono là, che noi siamo là, rappresentanti di organizzazioni non governamentali, la chambre professionnelle della médiazione e della négociazione, e son ecole, l'école professionnelle della médiazione e della négociazione, che formentano e regrupe le mediatori professionnelli in Francia. Grazie quindi di vostra action e di vostro accueil. Per l'action che vi conduisez qui, in Italia, vi mette in evidenza che i mediatori dovrebbero s'organizzare. Ci dovrebbero s'affirmero in loro professionnali, in ogni paese, in Europa e in la comunità internationale. Ci dovrebbero non lasciare a dei lobby professionnels un potere di captazione e a delle volontà politiche o economiche la possibilità di revenire su dei acquis interessanti all'interessanti dei persone in tutti i contexti della vita societale. Car la mediazione è una nuova instrumentazione al servizio di una nuova comprensione e di una migliore comprensione dei rischi di degradazione dei relazioni tra le persone e all'interessanti delle organizzazioni. La mediazione outilie la qualità dei relazioni umane anche sicuremente qu'en tant che processus professionnel elle favorise la risoluzione dei differenziati. Tutte nostra organizazione sociale è concernata perché è fondata su un contrat che non è mai tutta chi. In effetti, le pacte sociale necessite di essere parlato. Sa transmissibilità non è automata. è necessita una riflessione permanente che solo la mediazione può migliorare voire garantire. Encore faut-il che questa mediazione sia professionale e non conduita in un contexte che s'exonerere di la riguardo e di la ricerca di améliorazione. Con la qualità e la distorsione dei relazioni siamo in un campo di investigazione nuovo. L'amateurismo, di sicuro, è benvenuto ma c'è con l'exigenza professionnelle che le cose avanceranno. In questa perioda di forte instabilità politica e economica certains y voient l'opportunità di contraindre. Les mesures prises par les argentiniers en témoignano. Le più grande numero è obligato di se restreindre. Per questa minorità speculative la mediazione apparazione come un modo di economisare anche sui i deboli di l'organizzazione societale per tutti. Or, economisare su la solidarità c'è conduire verso l'insicurità. Le calcio è molto vero. non economisare su ciò che protegge le persone. L'uverture di l'Europa è il risultato di un'ouverture su la confezione. E la regression viene di l'ouverture di l'Europa. La regression di la confezione. La confezione è il meglio di la protezione dei diritti è il risultato di l'Europa e il risultato di l'Europa e il risultato di evoluzione è il risultato di l'Europa e il risultato di l'Europa non è una approche di la gestione di l'adversità con i idee fatalistiche che l'uomo sarebbe un lato per l'uomo e che si è il risultato di l'altro. Il mette in evidenza che c'è la ricerca di alterità che è un aspect fondatore quali che molto malattamente promu di l'organizzazione sociale con gli uomini. Il favorise una presa di conscience collettiva. Ainsi la médiation è meno una affaire di gain finanziere che una affaire di droit e questa médiation non può venire di un paese che ha il culto di l'argent questa médiation èmerge d'un paese che rayonne di par il mondo per il suo modello che ha fondato il d'altro che si è un paese che ha avuto una nuova pratica che apporte a persone che di far prospere i loro liberi in situazioni dove ci sembra impossibile vous avez consacré l'ouverture d'une inimaginable discussion et c'est une posture extraordinaire qui doit être reconnue et reproduite partout dans le monde ce n'est pas sans humour que j'observe que c'est à Rome que cet événement a lieu dans tous les cas je vous remercie de cette initiative formidable c'est un passage molto toccante dans le discours du Dr. Lascou quand il paragone à l'introduction de la medieuse comme une innovation tellement importante et qui parable à l'abolition de la peine de mortes et qui parable est très large